Nell'ambito dell'intervento di riqualificazione dell'area di City Life, noi ci siamo occupati sia della Torre Adid che di Torre Libeschi. Si conosce meno la parte del podio che comunque ha le sue peculiarità. Il podio è un edificio basso che sta alla base di Torre Adid. Il progetto iniziale, il preliminare, l'abbiamo iniziato nel 2009. Inizialmente era solo una copertura di una galleria commerciale che si sviluppava nei livelli interrati e al piano terra. Dopo per questioni commerciali e quant'altro, quel podio è diventato una galleria commerciale con sopra sette sale cinema, quindi multisale. Le dimensioni, giusto per avere un'idea, sono 170 metri di sviluppo in orizzontale, 80 nel lato corto, è alto circa 19 metri e ha un totale di carpenteria metallica di circa 1500 tonnellate. Abbiamo detto, noi siamo partiti dal progetto preliminare. La forma è una forma Adid. Noi dovevamo impostare delle carpenterie metalliche partendo da un input che era una pelle, con una geometria variabile, tra l'altro in questo caso neanche parametrica. Quindi avevamo una pelle esterna e degli ingombri. Poi avevamo una maglia strutturale dell'interrato che esisteva e un vincolo legato ai giunti. Ci tengo sul vincolo dei giunti perché questo è lo sviluppo della struttura del podio. Nella parte bassa, vedete queste linee viola, sono i giunti che sono presenti nel livello del piano terra. Cioè il riquadro in basso è dove sorge la torre, che è giuntato da tutto il resto, e poi c'è un giunto che taglia trasversalmente la piazza. Quel giunto non corrisponde al giunto che si può realizzare nella struttura metallica per alloggiare tutte le sale cinema. Quindi c'è stata una complicazione anche nel spostare il giunto di facciata e portarlo in copertura traslato verso l'asse A12 della figura. Dopodiché abbiamo trattato anche le strutture secondarie di sostegno della facciata, questo dal livello di preliminare al livello di definitivo. Poi nell'esecutivo non ci siamo più occupati noi. Tutto questo per dire cosa? Gli input erano una pelle, dei vincoli alla base e bisognava fare una struttura metallica realizzabile, cioè anche con dei costi, tra virgolette, contenuti. Lo strumento cosa è stato? Si è partiti dalla pelle, si è partiti dall'ingombra, si è partiti dai vincoli. Abbiamo ideato internamente un algoritmo che ci permettesse dai vincoli progettuali che non potevamo modificare di estrarre un filare strutturale sia della struttura principale sia della struttura secondaria. Perché questa esigenza? Pensate di partire da un preliminare e sapere di dover arrivare praticamente a un esecutivo. Quella forma è cambiata n volte, quindi non potevamo tutte le volte metterci a fare 12 sezioni, tirare fuori i montanti, le travi secondarie, quindi avevamo la necessità di implementare un algoritmo. Cosa c'entra col BIM? Ovviamente l'algoritmo non possiamo incrementarlo col MIDAS di turno che stiamo utilizzando. Abbiamo dovuto utilizzare altre tipologie di programmi e far parlare un programma con l'altro. Questo per identificare l'interoperabilità. Dopodiché, una volta che siamo entrati nel modello di calcolo o nel modello strutturale, uno è realizzato in tecla, l'altro è realizzato in MIDAS, tanto per avere un'idea, le informazioni venivano scambiate, in questo caso con il link che è disponibile di Arpaceas, però qui era più univoco e non dovevamo, tra virgolette, inventarci niente. L'idea di com'è fatta la struttura. Il livello P0 è il grigio che vedete in basso, dopodiché sulla parte sinistra, dove ci sono alloggiate sopra il livello 02, le sale cinema. Queste sale cinema sono isolate rispetto alla struttura. Sul retro presentano una trave reticolare su cui si appoggiano. Qua ci sono le sale di proiezione, sopra abbiamo la copertura alta. Qui c'è una copertura, un dicernario ETFE, anche questo con delle forme, diciamo, geometriche curve non parametrizzabili, cioè delle forme che ci restituiva l'architetto. Da quest'altra parte abbiamo un livello P01 di impianti e uffici e un livello P02 dove praticamente ci sono ancora degli impianti, degli uffici, zone tecniche che si collegano alla torre. Questo invece è il collegamento che poi sale e va a prendere la facciata della torre. Un altro argomento importante era appunto l'interazione con la struttura secondaria che sostiene la facciata, che non era banale, e le scale che hanno tutte delle forme che si intrecciano abbastanza complicate. Qui c'è un esploso di quello che sono le solette in CA e i nuclei di controvento, la struttura metallica e la struttura di facciata. Questa è la vista della struttura realizzata, quindi una foto del reale. Vi faccio, scusate, non ho fatto la premessa, vi faccio vedere prima qual è il progetto per capire come mai abbiamo dovuto utilizzare il BIM. Le sale cinema, che sono quelle che vediamo qua, sono cinque sale, diciamo, medie, una sala grossa e una sala piccola, che devono essere appunto, la struttura metallica viene isolata acusticamente rispetto alla struttura principale, perché sono appoggiate in falso, sono state inserite in un secondo tempo, come avevo detto prima, quindi sono un po' incastrate una con l'altra. Questo è uno schema della struttura, questo è tanto per avere un'idea, una sala piccola, la sala grossa e questa è la dimensione, questi sono degli uomini. Cioè la dimensione delle strutture è imponente, però sono tutte incastrate una nell'altra. Lo schema delle scale, come potete vedere, ad esempio in questa zona, ci sono tre scale che si intrecciano e questo è lo schema, cioè la prima, la seconda e la terza, che si intreccia con la struttura principale. Il lucernario in ETFE, che, come potete vedere, in questa zona praticamente appoggia sulla copertura, mentre in questa zona si trova distanziata, questi sono circa sei metri, se non ricordo male. Quindi per ogni punto di aggancio del lucernario in ETFE che ha un cassone perimetrale, bisognava studiare un nodo particolare in funzione della quota in cui si trova il cassone rispetto alla struttura principale di copertura. Questo è un esempio al vero, cioè la foto al vero del lucernario in ETFE. Le strutture di facciata, le strutture di facciata sono di diverse tipologie, questo era uno schema che avevamo fatto preliminarmente per studiare tutte le tipologie possibili di struttura, ovviamente uno schema fatto a mano per solo avere un'idea di come poteva funzionare la struttura, dopodiché ognuna di esse è stata sviluppata tridimensionalmente in funzione della pelle fornita dall'architetto, ci sono le strutture tipiche, quelle d'angolo, la struttura di giunto, e siamo arrivati a livello di definitivo fino a studiare diciamo lo schema di nodo che poi è stato realizzato. Quindi dal definitivo, se passati all'esecutivo costruttivo, c'è da precisare che in tutta questa fase non c'era stato richiesto di fare un modello BIM, cioè noi dovevamo consegnare tavole bidimensionali. In realtà al nostro interno per poter realizzare un'opera di questo tipo abbiamo detto, no signori, non è possibile studiarla in bidimensionale senza tenere in conto delle interferenze, studiare le interferenze tra le varie tipologie di strutture, cioè si rischia di prendere, passatemi il termine, una cantonata che poi successivamente si pagherà cara. Mentre quando siamo passati all'esecutivo costruttivo, l'impresa CMB e il cliente City Life ha richiesto che venisse fornito un modello BIM integrato, strutture, architettonico e impianti. Allora a questo punto con Planimetro che sviluppava diciamo il progetto esecutivo architettonico e DANS che sviluppava quello degli impianti, ci siamo coordinati appunto sul protocollo, sul livello di definizione che dovevano avere le strutture, l'impianti e l'architettura in modo tale da avere un modello BIM e fare tutti i controlli, le analisi così del caso. Com'è stato il processo? Ad agosto 2015 ci hanno dato l'incarico per fare l'esecutivo costruttivo. Entro dicembre 2016 le strutture devono essere ultimate, quindi non solo devono essere fatta la progettazione ma devono essere costruite. Come si può fare un progetto di quel tipo con quella complicazione in 16 mesi e realizzarlo? L'unica soluzione era appunto quella di far parlare tutti, nel nostro caso, tutti i programmi diciamo che abbiamo utilizzato nella prima fase, in più abbiamo aggiunto un tecal perché essendo tutta struttura metallica, dovendola poi fornire a un carpentiere che la doveva realizzare in fretta, quindi non poteva partire da piante e sezioni per rifarsi lui il modello da passare alla macchina e poi costruirlo. Allora abbiamo fatto un investimento, abbiamo detto vabbè investiamo anche su Tecla nonostante magari ce la potevamo fare anche con i programmi che avevamo già in casa e abbiamo fatto parlare ognuno di questi programmi uno con l'altro in modo tale che, come diceva prima l'ingegnere Sattamino, sull'armatura dei solai e dei nuclei mi è più comodo utilizzare Alplan perché riesco ad avere la lista ferri e quanto mi serve. Per quanto riguarda le carpenterie userò il mio Tecla, ovviamente per le analisi mi sono usato Midas, per la costruzione della geometria in questo caso abbiamo usato Rhino con Grasshopper perché ci permetteva di implementare gli algoritmi che già avevamo sviluppato a livello di progetto definitivo cioè preliminare definitivo. Ovviamente tutti gli attori dovevano parlare uno con l'altro a questo quindi si è aggiunto Revit che era il programma che utilizzavano gli impiantisti e gli architetti e Solibri che era quello che permetteva appunto di verificare le interferenze e sovrapporre tutti gli IFC e quant'altro. Adesso io non è che faccio pubblicità a questi prodotti, era solo per capire la quantità di piattaforme che possono essere utilizzate e grazie al protocollo IFC che possono comunicare. Se pensiamo a 5, forse 6 anni fa se io un modello di Tecla dovevo farlo combaciare con uno di Revit non so se era possibile o quante informazioni avrei perso. Diciamo... Ah, l'altra questione è la definizione. Cioè il... Qui si è persa la parte della slide. Vabbè, la definizione che noi dovevamo avere nel nostro modello era un LOD 300 nel senso dovevamo dare la carpenteria, le informazioni, tutti i dati legati agli elementi strutturali ma quando dovevamo sviluppare un nodo di dettaglio in realtà era l'intersezione di due aste all'interno o di quattro aste all'interno del modello. Però da questo LOD 300 bisognava passare poi ad avere un costruttivo e realizzarlo. Quindi noi oltre alle aste diciamo oltre al modello con l'incrocio delle aste davamo le informazioni in termini di nodi parametrici nel senso che indipendentemente da dove era l'incrocio tra le colonna noi abbiamo studiato un sistema per rappresentare qualsiasi tipologia di nodo che sia frangiato o a coprigiunto e in tabelle oppure a perno e in tabelle davamo tutte le informazioni necessarie in modo tale che in un secondo tempo quando il carpentiere riceveva questo modello con le tabelle riusciva a realizzare il modello in LOD 400 che poi è quello che è stato realizzato questo ci ha permesso di velocizzare tantissimo la produzione dell'esecutivo perché ovviamente mentre un operatore gestiva il modello un altro faceva i calcoli dei nodi li esportava in tabelle le inseriva e veniva fornita tutta l'informazione un altro esempio è la zona diciamo che avevo di giunto questo è un bilancino per prendere qui c'è un giunto tra il solaio del livello P02 che tiene le sale cinema e un solaio del diciamo tecnico qua c'è un bilancino che a livello di modello è semplicemente due aste veniva rifornito in termini diciamo 2D tutte le informazioni necessarie che poi sono quelle che hanno permesso di realizzare il nodo esattamente come era stato pensato clash detection l'avevamo già fatto vedere un attimo fa per la questione dell'ospedale di Genova in questo caso non c'è solo diciamo architettura e struttura ma ci sono anche gli impianti che come potete notare sono una miriade considerate che appunto è un centro commerciale un cinema e sotto ci sono due piani di interratti forniti cioè serviti sempre dagli stessi impianti passiamo al diciamo a come vengono restituite le clash detection semplicemente il programma identifica dove ci sono delle interferenze si scrive ognuno scrive le note che gli interessano in questo caso la struttura non poteva essere spostata quindi si chiedeva agli impianti di abbassare o ridurre il canale quindi la risposta che ci eravamo dati come si fa a passare da un progetto diciamo definitivo a un esecutivo costruttivo e la realizzazione in soli 16 mesi di un'opera così complessa l'unica risposta diciamo che ci si poteva dare era sviluppare un modello BIM noi diciamo eravamo pronti a questa sfida perché comunque come ingegneri specialmente come strutturisti per noi l'idea che un elemento abbia una forma 3D delle proprietà cioè noi siamo abituati a sviluppare un modello elementi finiti che una trave non è un'asta ma è un'asta che ha una certa sezione un certo materiale e possiamo mettergli tutte le informazioni che vogliamo quindi fare un BIM a livello strutturale per noi era diciamo nelle corde ci volevano gli strumenti e i protocolli che permettessero a noi di parlare o con gli architetti con gli impiantisti e quant'altro questo è il risultato faccio vedere un po' di foto questa qua è la zona diciamo ovest del podio che poi si vede completata fino in copertura con la diciamo la copertura in TFE questa è una zona che viene chiamata il naso del podio che è quella che va verso la torre diciamo un elemento molto imponente che diciamo copre la sala grossa e la sala piccola del cinema qui è con la baraccatura di facciata diciamo montata e qua è con anche i pannelli che sono ormai in fase di completamento il lucernario in TFE che abbiamo visto prima e questo diciamo è lo sviluppo del podio che praticamente è una torre posta in orizzontale ho cercato di essere il più veloce possibile spero di che sono ormai